Tortona sotto sessione di staccamento dell'ANMIL provinciale di Alessandria con il presidente territoriale Elio Balistreri. A lavoro, presidente. Siamo venuti a Tortona per chiederle direttamente un raffronto con i dati che sono usciti a livello nazionale legati appunto agli infortuni sul lavoro. Il trend in provincia d'Alessandria e in generale in Piemonte? È in aumento. Il 22 dello scorso mese in una riunione a Torino con la direttrice dell'INAI regionale abbiamo riscontrato un aumento nelle malattie professionali, nelle morti sul lavoro e negli infortuni in itinere. C'è stato un piccolo calo negli infortuni industriali però questo non inficia tutto il discorso che comunque con la produzione in aumento gli infortuni sono di nuovo aumentati. Sia la regione Piemonte che Lombardia che Veneto hanno questo aumento del circa il 10% degli infortuni e delle morti sul lavoro. Ecco la leggera flessione di cui si era parlato era legata appunto all'anno 2017 ma ora si torna comunque ad incrementare purtroppo i dati legati agli infortuni. Sempre in questo incontro a Torino si è però stabilito un percorso importante grazie all'INAI nazionale che stanzierà dei fondi per una cifra molto consistente per poter adeguare i luoghi di lavoro e quindi inserire persone che hanno appunto avuto infortuni e quindi hanno la possibilità poi di tornare a lavorare. Sì su questo problema io mi sono accallaurato nella riunione del COCO PRO di questo scorso mese proprio per far sì che l'unione industriale, l'unione artigianale e tutti si attivano per accedere a questi fondi che l'INAI mette a disposizione per inserimento lavorativo dei disabili. Sia anche quelli sotto soglia cioè quelli che sono sotto il 34% sono progetti che la regione in sede nazionale sono 45 sono stati attivati solo 4 progetti in regione Piemonte. Credo che con 150 mila euro che stanzia l'INAI in base alla legge 68 del 99 credo che molte aziende nella provincia dalle Sandra potrebbero attivarsi su questi progetti. Anche perché lo stanziamento è veramente cospicuo si parla di 20 milioni di euro e lei ha una visione a tutto campo perché oltre ad essere referente sul territorio provinciale ha anche un incarico in consiglio regionale, in nazionale. Insomma ha una visione molto ampia come l'ha dal punto di vista dell'associazione riguardo alla prevenzione. Quindi prevenzione che viene fatta con testimoni nelle scuole proprio per insegnare a tutelarsi anche da quel punto di vista. In questo campo noi ci attiviamo molto con molti consiglieri che vanno nelle scuole proprio per l'inserimento lavorativo. E c'è stato anche un progetto che abbiamo fatto lo scorso mese con la fondazione proprio per incentivare i futuri lavoratori delle scuole industriali proprio a Casale per sensibilizzare su questi problemi che toccano i nostri futuri lavoratori.